Da Guido Monaco, illuminato in segno di solidarietà alle donne afghane ed iraniane, agli appuntamenti con il teatro e la sensibilizzazione, Arezzo si prepara così alle celebrazioni dell'8 marzo con un ricco calendario. Si parte da un gesto simbolico, coerentemente con il dispositivo della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, verrà illuminato di giallo nella sera di mercoledì 8 marzo il Monumento Cittadino, previsto poi in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti della donna un doppio appuntamento. Alle 18 a Palazzo Arbergotti arrivano le donne di Shakespeare, poi alle 21 al Teatro Petrarca il trio vocale Le Signorine presenterà un caffè con i cantautori, ancora al Teatro Petrarca poi un nuovo appuntamento mercoledì 15 marzo alle 21. L'arrivo ad Arezzo di Chiara Francini in una commedia ormai che è diventato un classico, che è coppia aperta, quasi spalancata, che seppure in maniera, come posso dire, ironica, ma affronta dei temi che sicuramente hanno a che fare con la differenza di genere e la percezione di che cosa può fare un uomo e che cosa può fare una donna. Tutti gli spettacoli sono assolutamente gratuiti, però è obbligatore alla prenotazione, anche perché ci aspettiamo appunto molta gente.